Con questo progetto sono dieci anni di collaborazione e di partnership con Alcantara. L'incontro tra Neri Wu e Carlo Scarpa ha prodotto qualcosa di abbastanza magico e io voglio ringraziare Alcantara perché Alcantara sta mettendosi in discussione, sta sfidandosi. Grazie alla lucimiranza del Maxi noi abbiamo fatto una transizione estremamente interessante di questo rapporto con il mondo dell'arte e ci siamo spostati sempre di più verso dei progetti di partnership culturale. Siamo estremamente compiaciuti che il nostro materiale serva da elemento di ispirazione alla creatività di questi artisti e di differenti artisti. Lo studio Neri Wu, che è uno studio basato a Shanghai, ha scelto all'interno dei nostri archivi di interpretare uno dei maggiori maestri presenti nelle nostre collezioni, ovvero Carlo Scarpa. Il concetto di soglia che identifica le sei installazioni presenti in mostra raccontano come attraverso i volumi architettonici, il dialogo tra il pieno ed il vuoto, la sottrazione avvolte proprio della massa, c'è un invito al movimento. Lo che abbiamo fatto qui era cambiare l'alcantara in un materiale di construzione, un materiale che ci aiuta a enfasare alcuni dei detali di Carlo Scarpa in un ambiente architettonico in di questo particolare. Grazie per la visione